buonasera iniziamo con la situazione meteorologica sull'italia permane un campo di alte pressioni livellate ed ora le temperature delle ore 14 in Italia Cuneo 24 Bolzano e Trieste 30 Venezia 28 Milano 27 Torino 28 Genova 26 Bologna 30 Firenze 32 Ancona 29 Perugia 31 L'Aquila 32 Pescara 29 Roma e Campobasso 32 Bari 28 Napoli 30 Potenza 28 Reggio Calabria 33 Palermo 30 Cagliari 31 tempo previsto per domani su tutte le regioni sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nelle ore centrali della giornata sulle zone alpine e prealpine del settore nord orientale foschie notturne e nel primo mattino in Valpadana temperatura in aumento al nord e al centro venti deboli variabili con locali rinforzi da nord est sul meridione mari quasi calmi o poco mossi buona serata buona serata buona serata